buona sera a tutti sono luigi un araco se preferite mentre sul battle verso il gioco la nice della nuova lr prime battle uscita di recente nel gioco abbastanza interessante tra l'altro come personaggio ovvero tieno saiyan saga o meglio tiene ciaozzi in quanto come vedremo è presente anche il piccolino ma come al solito andiamo con ordine vediamo cosa comporta il personaggio statistiche full abili su 25.835 hp 19.018 attacco 12.060 di difesa leader saiyan saga tra chi è 130 per cento stats non male molto molto carino interessante può essere davvero fatto bene se ci si impegna nel giocarlo nel modo giusto quindi promosso di sicuro tutto l'aspetto leader anche perché siamo di fronte come ben sapete non a quell'incredibile team con 20.000 leader gli altri saiyan saga sono con quei piccoli lr e nappa e mi rifiuto di nominare il terzo pg comunque abbiamo poi come passiva tre chi per 10 turni dall'inizio della partita buono buono sono cinque turni di bonus non male davvero davvero non male ci sta come va detta ci sta dopo di che abbiamo tre chi per a 10 turni quando c'è un extreme quindi contro gli extreme il personaggio avrà di base di base un buon 6 chi di partenza in più quindi partirà con 12 chi attacchi di 100 3.000 attacco difesa più 10.300 per ogni attacco fatto fino a 103.000 lancio un additional superata con 80% più di hp lancio un additional con gli hp 50 per cento o meno media chance di lanciare un critico quando lancia una 24 chi ho grande chance di lanciare un critico con meno 50 per cento quando lancio una 24 che come aveva detto buildato l'additional ha un ulteriore chi più 10 con gli hp inferiore al 30 per cento cosa possiamo dire quindi del personaggio il personaggio di base si comporta come un pg che meno hpa più va vicino alla 24 chi 24 chi aumenta l'attacco per un danno ma vi fa perdere un 5 per cento di stats quindi su quello state un attimo attenti che non diventi un'arma a doppio taglio che non dovrebbe accadere però non si sa mai c'è sempre un limite c'è sempre un limite che dovete stare attenti i valori flat i valori flat sono una bestia nera per questo gioco nel senso le persone reputano sempre che dei valori flat siano un insulto roba simile io non la penso così non la penso così semplicemente perché ok i valori flat fanno cagare normalmente ma ragazzi qua parliamo di valori flat di 203 mila di difesa proprio regalata così cioè non parliamo di un valore flat del cavolo un bel che un gran bel valore flat se ci pensate c'è un valore flat che vi permette di giocarvela più o meno come volete in qualsiasi modo se non stiamo parlando di un valore flat che va a intaccarvi più di tanto la situazione cioè capisco che magari essendo partiti con dei valori flat molto più scarsi una volta e ci sta ripeto siano visti molto come la bestia nera ma a mio avviso non è assolutamente così è semplicemente che bisogna starci attenti così alti quindi anche voi che ce ne frega poco che il valore flat in sto caso non sia il percentuale anche perché il momento in cui lanci sui dieci attacchi 203 mila di difesa così gratis non sono difficili ma non sono neanche facili 200 mila di difesa qui vanno poi ad aggiungersi almeno i 40 50 mila difesa più link arrivando a un buon valore a un buon valore si ripeto non stiamo parlando del pg della vita non stiamo parlando dell'r free to play alla master roshi che rimarrà oggi la migliore l'r free to play a mani bassissime reputo anche se devo finire di testarlo migliore anche dell'esa di veget master roshi a tutto quello che servono nell'r free to play però tutto sommato non siamo neanche a livelli imbarazzanti come possono essere altri unit per carità per carità siamo a degli ottimi livelli è un ottimo 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 personaggio che ha i suoi punti di forza i suoi punti di debolezza e funziona tra l'altro ha anche la attiva attivabile dal quarto turno o dal quarto turno con il 50 per cento o meno di hp che addio tn detta molto papale papala e addio tn con danni al nemico 10 che 30 per cento per un punto vi andate fissi in 24 che buono assolutamente assolutamente buono secondo me quindi il pg vale la pena usarlo non è affatto male non ha chissà quale giocabilità abbiamo detto fate che nel scorso di sa poste parisciò di specie del minuto gennaio paolo quindi non siamo proprio di fronte ai mega ai mega link della vita le categorie volti raivo france un carriamo fessi messa in saga anche non gli permettono davvero giocare ovunque lui voglia ma ma e qua ci sta bene a mio avviso un bel ma grande come non so che cosa il pg comunque comunque è interessante perché in saian saga non c'è il mondo salvo avere molti pg quindi tutto sommato lo si può giocare molto facilmente e fuori da saian saga fuori da saian saga può essere comunque molto interessante giocarlo in earthling che ormai a mio avviso è un team di tutto rispetto quindi earthling è al cento per cento un team sensato e che funziona funziona anche bene sinceramente quindi gg come va detta gg detto questo vi ringrazio di seguito noi ci vediamo spero di riuscire domani anche perché se non ci vediamo domani non so quando ci rivediamo potrei passare un po di tempo perché come vi ho spiegato sono in partenza per la francia comunque spero che ci vedremo presto vi auguro un buon proseguimento e buona serata